Spera, ho trovato una Master Ball Come hai fatto Steph? Ho sconfitto dei boss e l'ho finalmente dropato anche io Però ho deciso di fare un gioco L'ho nascosta in una delle case dei partecipanti della serie Ma come? E avrai 5 minuti per trovarla Se la trovi è tua 5 minuti sono pochi Steph Se la trovi è tua Se non la trovi è mia È già fin troppo che ti sto dando una chance Quindi devi muoverti, devi riuscire a trovarla E vediamo un pochettino che vince E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Steph, che si giochiamo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio della Pixelmona e Steph Non perdiamo tempo, vado Allora, avvio, avvio, avvio No, 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 allora A casa mia non sarà, quindi vado dritta Ok, ok Ma posso volare o devo andarci sempre a piedi? No, devi andare Ma se vuoi volare con il tuo Pokémon non puoi volare Perché aspetta, no, no, alcune sono molto in alto Beh sì, col Pokémon, alcune sono molto in alto Allora, quindi sei nella casa di Lars come prima Sì, 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 sì Dove puoi averla nascosta? Ma dentro delle ceste? E dentro una ceste che non è particolarmente nascosta Quindi è proprio vedere al volo tutte le case Allora, qui non c'è nulla D'altronde ti ho lasciato solo cinque minuti Quindi Vediamo la porta Mi hai chiuso fuori Eh, mi dispiace, stai un po' fretta Ok, devi già volare, Fere? Eh, sì, un attimino Mi devo sistemare i Pokémon Vai, voliamo Ok Perché le altre sono troppo in alto Se no non ci arrivo Da chi vai? Qui sopra Da chi? Da chi? Da chi? Da Federic? Penso da Federic, sì Penso che questa casa sia sua E lui ha tante ceste, eh Quindi ti metterà parecchie difficoltà Ma enorme, sta casa è strabella Lo so Come fa ad essere così bella, così moderna? Oh, mamma mia, è pieno di ceste Ma non è che poi magari c'è una sua Master Ball E gliele sto a rubare, Stef? Eh, quello può essere un problema Non tocco nulla, no, no Nel caso ti avviso Tutti i materiali per la serie, sicuramente Quindi no, non c'è niente Ok Pieno di roba, Stef Dovemmo fare un furto a casa sua, io te lo dico Ah, eccole le scale, non le trovavo Pieno di roba Ma aspetta, ho notato che ci sono un sacco di altre ceste Fere, ma tu a che piano sei? Ah, eccoti Ah, ci sono altri piani, Stef Sì, sì Come? Già, già C'è una fortezza, questa casa è enorme Lo so E poi la piscina, guarda che bella C'è pure il piano di sopra, la piscina Vabbè, Fere Dato che vi ho sotto un minuto e trenta Mi sa che ti do una mano Il tuo Pokémon ti sta cercando di seguire Vieni qua, vieni qua, andiamo via Ok, ha capito che non è qui No, è troppo, cioè l'avresti messo in un posto più visibile C'è troppo da vedere Vediamo qui chi c'è Ma queste sono costruzioni strane Ok, sì, queste sono nuove costruzioni Che mi sa che ha fatto Federic Ah, ok, ok Quindi non lo so se non controlliamo sta casettina al volo Eh, no, Fere, non è qua, non è qua, non è qua Ti do una mano Ok, ok, andiamo da un'altra parte allora Ok, allora vediamo un po' Dove sono le altre case poi? Le altre case sono nella zona quella delle case piene Allora c'è la casa di Mark ancora Che non ho visto C'è la casa di Mark, quella di Marci Quella di Eren Lo so Tirless che non ha proprio una casa Quella di Tech che poi è dietro casa nostra Quella di Tech, esatto Stendendo a quella di Mark? Sì Ok Vediamo Che figata questa roba qua Bellissimo Ok, allora siamo qui Sta controllando certe chest Ma quanta roba che ha È difficile, eh No, cioè queste mi sembrano chest sistemate da loro Le escludo a priori perché secondo me tu le avresti messe in un modo diverso Capito? Invece quelle seguono uno schema e si capisce Sta giocando di strategia E si capisce che le ha messe qualcuno Hai la metà del tempo ancora, Fere È la metà del tempo Non mi ricordo dove sono le altre case E basta che ti guardi un attimino intorno senza panicare Non le vedo Beh, più avanti Ti dico io dove sono Grazie, grazie Ok, le vedi? Ho i chunk bassi quindi non le vedo C'è quella di Eren e quella di Marci Ok Faccio una e l'altra Le guardo tutti e due quindi Ok, da quale parti? Qua, 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 qua Questa è quella di Marci Ok, da dove stai atterrando, Fere? Qua Ma fai ad entrare Dovrebbe essere l'ingresso, scusami, eh Sì, è l'ingresso di casa Extra belle queste case Lo so Come fanno a costruire così bene? Io ho sbagliato, parte Non era quell'ingresso Io ho fatto un muffin Ho rotto una cosa, Steph Cos'hai rotto? Oddio, non lo so Cosa? Mi è partito un click e ho rotto qualcosa Ho visto qualcosa Sì, hai rotto un tavolino Rimettigli un tavolino Io vado a cercare E come faccio? Cavolo, scusa, non l'ho fatto apposta Fere, ma hai finito di controllare la sta casa? Eh, penso di sì Non ho visto altri piani Altri piani Ma non lo so Non lo so, Steph Non ho un'idea Non lo so Sono enormi Eh, ok, stai ripartendo? Sì, gli hai rimesso un tavolino No, non ce l'ho un tavolino Come faccio? Devo andare a craftarlo Poi dopo lo faccio Scusa, Marci È colpa di Fere che clicca Cos'hai cliccato, poi? Non lo so Ho sbattuto il mouse contro la tastiera Mi è partito qualcosa Ok E ho visto qualcosa rompersi Ma questa casa è bellissima Sì, quella di Eren è tipo È piena di passaggi segreti È una roba incredibile Io voglio vivere qua Guarda La trasferisco Ma mi sa anche io Perché C'è qua anche i letti che fighi Allora, qui non è È troppo bella Qui non è Troppo, troppo bella Sì, vabbè, ma c'è un tunnel segreto Ma dov'è? Vieni a vedere Ma dove? Allora, questo me lo consideri come non tempo, ok? Ok, però vieni sotto No, devi scendere tutto giù Aspetta che blocco il tempo allora Io ho sceso Allora, scendi Ho sceso delle scale Tu dove sei finito? Io mi sto perdendo in sé Come fanno loro a orientarsi? Me lo spieghi? Non lo so Qua c'è il bagno Allora, ho sceso delle scale Dall'ingresso Sono scesa tutto giù C'è una scala lunga Ah, ok Eccola Eccola Eccomi Qua, 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 qua Ok, scendi, scendi, scendi E qui c'è il tuo No, no, no Continua, continua Vieni qua Ok Ok Ci sei? Sì Questo Cioè, dove porta? Non lo so Aspetta Aspetta No, aspetta, aspetta C'è acqua Cosa vuol dire? Vedi? È una cascata Sì, ma non è che si allaga tutto, no? No, Ferre È una cascata che nasconde l'uscita Che bello All'uscita segreta nel retro All'uscita segreta Forse non la dovevamo far vedere Forse doveva rimanere segreta Ma non credo, non credo, Ferre Allora, ti stavo dicendo Hai un minuto Riparto adesso Pronta? Vai, vai, vai Ok, riprendi Vuoi un elenco delle case che ti mancano? Manca Quella di Tyrles Che è piccolissima Quella di Teck Anzi, non è che è piccolissima Proprio non c'è E poi quella di Kenoya, mi pare Quindi te ne mancano tre E devi riuscire a uscire dalla casa No, io esco da qui È troppo gra No, sono andata in un'altra stanza, Steph No, sono in bagno No, quello è il bagno Ferre, qui, 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 qui Dov'è l'uscita del bagno? Il tuo Pokémon mi blocca Togli il Pokémon No, Steph, questo Steph Ecco qua Chiudi la porta, Steph, quando esci Ok Andiamo Vediamo qui Eh no, ma c'è troppa roba Ferre, è di qui Dove sei andata? Non lo so Qui Si è persa Ecco da qui No, sono di nuovo in bagno Guardami Guarda me Guarda me Eh, vabbè Non ti vedo Il problema è quello Consolini, Consolini No, davvero, sei sparito Ferre, Ferre Qua Mi vedi Eh, non ti vedevo Poi qui E sei fuori Congratulazioni Stai caricando Che bello Allora, siamo a 5 minuti Io vado in questa Questa specie di Cosa sono? Stai ignorando il fatto che sono posati 5 minuti Delle rovine, Steph Quella è quella di Tearles Non è proprio una casa No, infatti, è quello che ti dicevo Lui non ha ancora fatto la casa No, Steph, non la trovo Basta, mi arrendo Catturati il tuo leggendario Non mi rompere le scatole Non mi è piaciuta Allora Allora Che sei Lascia in pace i Pokémon Ciao Sai dove era? No Hai visitato la casa in cui era Era nella casa di Marci Sei arrabbiata? Mi stai guardando male A che piano? Ferre Al secondo Cioè c'era un altro piano? Sì Ferre, ma mi sa che c'è l'ascensore Sì Se premi Control Sali Se salti Tirlo se è stato qui Ci siamo capiti Ci siamo capiti Sali Quindi salta Salta, 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 salta Devi saltare ancora una volta Devi arrivare nel mio piano Ah, ecco Invece prima C'è anche il piano di sotto Eh già È una figata E qua c'è la Master Ball Che Me l'hai messa in un piano Che non era raggiungibile Steph Scusa, eh Qui la colpa è tua Perché se tu me l'avessi messa In un piano Che io potevo vedere Tu non mi hai avvisato Che c'erano ascensori Io non li ho notati Scusa, eh Dovevi sapere tu Come erano fatte le case Facciamo così Per farti perdonare Dato che tanto dobbiamo andare A cercare un leggendario Ok Nel mentre Cerchiamo anche dei boss Da sconfiggere Ok, sì, sono d'accordo Così droppiamo nel caso Al tre Master Ball Ti piace? Sì Benissimo, andiamo Andiamo a volazzare Ok, un boss l'ho trovato Il problema È che È di livello 81 Ok Però è quasi morto Com'è quasi morto? È quasi morto Allora Non è possibile che sia quasi morto Eh, dicevo È il braccialetto anche tu adesso Il braccialetto? Sì, lo vedi? Guarda il braccio Ce l'avevano tutti nella serie Mi sto sopra Perché aspetta Ma che cos'è? Che cos'è? Io non ce l'ho Non l'avevo mai trovato Io devo dirti la verità Ho ammazzato un solo boss E ho trovato la Master Ball Però non lo devo dire Ah Ho avuto un po' di fortuna Come sempre Ok Comunque Peccato che non l'abbiamo trovata Perché ovviamente il mio obiettivo è O trovare la seconda Master Ball Che è quella per te O trovare un leggendario Da eventualmente catturare Quindi Continuiamo ad esplorare Allora aspetta Ma Mi sa che però mi hanno ammazzato Straptor Io non posso più volare Oh no Mi ho trovato un altro Sempre boss Vado? Vai Oh mamma mia Ma perché ho lasciato Shiter Porca miseria Vabbè vediamo se riesco a dargli almeno un attacco Sì E ovviamente non gli ho fatto nulla Ok Addio Ok Ferraligatr È il tuo momento Ok vai Partiamo con un Ice Punch Bello sto boss Bello Uh che sberla che mi ha dato Ho notato È forte cavolo Muoio? Sì Mi sa che non riesco a battere Che anno è? 81 81 ma è davvero 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 forte Allora Proviamo Dragon Dance Se non mi muore Ok Sono sopravvissuto Sì vabbè ma Come sta andando? No no È impossibile È impossibile C'è Una sberla mi toglie tipo 200 di vita Infatti è morto anche l'Apras E tutti gli altri sono troppo bassi Posso provare giusto con Infernape Ma al 59 30 livelli di differenza È davvero Davvero Io ce li ho anche un po' più bassi dei tuoi Quindi no Non ce la faccio Neanche a dire che lo sfido io Non ce li ho così alti Non ce li ho a livello 80 Però direi che vi è entrato un altro boss Che dici? Sì Sì Abbastanza enorme Però c'è un problema Che c'è? Credo che sia diventato un tutuno con il mondo Perché Se no ti Non riesci Li ho tirato in tutti i modi Il Pokémon Non vuole combattere Io non gli vedo neanche la targhettina Tipo boss Capito? Beh ma quella quando sono enormi È difficile vederla Però Oh ce l'ho fatta Ok Ok il Metagross Allora 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 Io nel dubbio ti tiro un terremoto Così 81 Super efficace Gli ho fatto un sacco di danno Buono così Bello 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 Mi ha spaccato tantissimo Però l'ho mandato basso Dai che ti batto Ok Mi ha buttato giù Feri il gatto Allora A questo punto Proviamo con un Lapras Facciamo un Waterfall Non morire Ok vivo Ok È basso Un po' di slam di Michele Abbastanza bacio No ovviamente Allora Ok Farò paura Ho una paura Incredibile Lo so Me li sta ammazzando Me li sta Cioè è bassissimo Ma Gli altri Pokémon Sono troppo deboli Io l'ho visto sparire per un attimo E pensavo che l'avessi sconfitto Non ho capito sinceramente Allora Aerial Haze Dai non morire Dai Ti manca pochissimo poi Eh ovviamente con Shytor Non gli faccio danno Vorrei fare questo Ma tanto me l'ammazza Ok Infernape Dai ti prego Che puoi fare Che vuoi provare? Devo sperare che non muoia il mio Con un colpo Morto Ma dai È rimasto a 10 HP Prima hai trovato un ARK Se gli fai fare un livello Ha Feraligod Ne avevo anche un'altra Due livelli Torno subito Perché lui ad esempio Gli fa delle belle mosse Quindi riesce a fargli parecchio danno Secondo se usi le ARK Torno subito Due livelli in più Non sono pochi Hai ragione Ho due ARK Hai ragione Dai ma le estremi Stef Sì Allora Eccole qui Entrambe Una Quindi 72 Due 73 Magari 73 Se la regge un pochettino meglio Dai Perché mi dà proprio fastidio Lasciarlo così basso Vai Dov'è? Fere? Qual giorno è scomparso? Fere? No ti preoccupi Fere? Non è scomparso Vero? Vado a fare una cosa Stef Cosa? A uccidermi in acqua Vado ad affogarmi Forse ce l'avremmo fatto Ed è scappato Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Non è finito il mio Pokémon Ok Volo Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Uh sembra enorme Oh porca miseria Lo vedi? Oh porca miseria Sì 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 Ma questo mi massacra Ma è grande per essere grande Ma questo mi massacra Vabbè però dai abbiamo il boss Ok vado Se mi metto sull'albero Quindi mi godo la battaglia Perché non hanno lì 93? No mi sa che non si può Beh Aspetta Forse ce la va Vai Vai Continua Perché Terremoto Che è super efficace Vai Incredibile Questo ne vale 5 di boss ammazzati Almeno una gioia Ti prego Ti prego Dacela Ce la meritiamo Tristezza Peccato Ragazzi non è scesito Lasciateci un like Nella prima volta che vi ho visto il nostro video Potete considerarli Di iscrivervi Per non perdervi le altre visioni Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao